Ballando con le stelle, Millie Carlucci, sembra orientata a far entrare aria nuova nel suo show, cambia tutto La prossima edizione sarà la numero 18. Il dancing show di Rai 1, ballando con le stelle, diventa maggiorenne E solitamente i 18 anni impongono un cambiamento di immagine. Radicale, ballando con le stelle, Millie Carlucci, cambia tutto e tutti, foto ansa Grand Tennis Toscana It, Millie Carlucci, il cambiamento di immagine, ma non soltanto, per il suo storico show, lo sta prendendo in seria considerazione L'edizione numero 18 segue la numero 17 che, pensieri superstiziosi a parte, è stata la più, ricca, di polemiche, più o meno volute e cercate Dalla presenza tra i concorrenti in gara di Lorenzo Biaggiarelli, compagno della giurata selvaggia Lucarelli, all'insulto volgare che la stessa giornalista ha ricevuto da Iva Zanicchi durante la prima puntata E poi ancora la discussa partecipazione di Enrico Montesano, unita a quella di un altro personaggio estremamente fumantino come Giampiero Mughini Il possibile restyling del dancing show di Rai Uno partirebbe da alcuni componenti della storica giuria Sono almeno tre i nomi in bilico in vista della prossima edizione, ed altrettanti i volti noti pronti a subentrare Proviamo a anticipare le mosse della grande conduttrice di Sulmona Ballando con le stelle, Millie Carlucci, cambia tutto Quasi inutile dire come Selvaggia Lucarelli, sia la giurata più a rischio per un eventuale conferma La stagione passata è stata la più complessa per la giornalista-blogger di Civitavecchia La presenza del suo compagno in gara le ha complicato molto il lavoro Luisella Costamagna sarà giudice nella prossima edizione? Foto Hansa Grand Tennis Toscana It, la vittoria di Luisella Costamagna, da Selvaggia Lucarelli ritenuta immeritevole del titolo, è soltanto uno degli episodi che hanno creato un certo attrito tra la giornalista ed alcuni componenti della giuria stessa Ma sulla permanenza o meno di Selvaggia Lucarelli, potrebbe avere un peso decisivo anche il nuovo corso della Rai targato Giorgia Meloni La giornalista non è certo una meloniana e dalle parti di Fratelli d'Italia, non hanno dimenticato il durissimo attacco di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Enrico Montesano nel momento in cui il noto attore romano ha indossato la discutibile maglietta della decima mass Atteggiamento che potrebbe farle perdere il posto nella giuria Caroline Smith e Guillermo Mariotto, sono gli altri due nomi in dubbio in vista della prossima edizione Tra i papabili, per una loro eventuale sostituzione, secondo le indiscrezioni fornite da TV blog, la stessa Luisella Costamagna, Giuseppe Cruciani, Giancarlo Magalli, Francesca Fagnani e, Prezzemolino, Nunzia De Girolamo, ormai presente in ogni dove Se siamo alla viglia di una rivoluzione in casa di ballando con le stelle ancora non si può dire con certezza Certo è che Millie Carlucci, ha voglia di cambiamento per i 18 anni del suo dancing show Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.